Buongiorno a tutti, mi chiamo Mohamed Mouaz Belassin e sono il ministro del turismo tunisino. Sono onorato di essere qui a Milano. Penso che dopo i due anni di Covid la Tunisia sia pronta per accogliere i turisti che torneranno nella nostra nazione. Ci sono tutte le condizioni per fare ciò con un protocollo sanitario ben formulato e applicato. Tutto il nostro personale nelle strutture alberghiere è vaccinato e anche coloro che hanno rapporti con i turisti sono tutti vaccinati. Ora abbiamo anche facilitato le condizioni per l'ingresso. Grazie. 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 Grazie.